Come progetto Scuole Opera Land abbiamo coinvolto ragazzi di scuole elementari e medie nella platea di questi piccoli spettacoli che portiamo in scena per loro e ragazzi dell'Iceo Coreutico Gobetti come mimi danzatori all'interno dell'opera. Per loro è un percorso di alternanza scuola-lavoro che gli fa un po' sperimentare la scena di posti importanti anche qual è il teatro Carlo Felice, cioè il teatro più importante della loro città. E' per noi un modo per diffondere e promuovere l'opera lirica e la bella musica tra i più giovani. Ma che minestra e fede da pace sarà... sarà questa? E' questa passa! Ho capito! Ma... La canzone qua... bene le parole ascoltate prima da me... Questa operina è praticamente un internezzo che dura 22-23 minuti e la storia era presa in giro agli insegnanti di campo. Questa operina è praticamente un internezzo che dura 22-23 minuti e la storia era presa in giro agli insegnanti di campo. Questa operina è presa in giro agli insegnanti di campo. Giri migli digrid Giuci Questo autore è stato presente in Italia e anche all'estero circa nell'Ottocento, è stato anche direttore del conservatore di Bologna e quest'openina è una presa in giro a un maestro di cappella, è un purpurì di gag che con la regia di Lucca è stato realizzato piuttosto bene e di cui sono anche molto contento, probabilmente riusciremo a portarlo anche in poesia. Grazie a tutti Grazie a tutti Tant'è che abbiamo fatto anche un'introduzione sulla spiegazione degli strumenti ad arco fatta dal primo violino Giovanni Fabris e un piccolo intervento con solo archi e un altro intervento per flauto clarinetto e clarinetto basso. Il teatro della gioventù ha dei problemi con la corrente elettrica per cui ha deciso di realizzare, di farlo visto che non si faceva in tempo ad andare a trattare a posto questa cosa siamo venuti qua in fornì. L'unica cosa che è mancata rispetto a Tanto la gioventù è il fatto che il regista aveva previsto tutta una serie di giochi di luce che non si faceva in realtà, non si faceva in realtà, non si faceva in realtà. L'unica cosa che è una serie di gioventù è che non si faceva in realtà, non si faceva in realtà, non si faceva in realtà, non si faceva in realtà. In un luogo del genere non si faceva in realtà, non si faceva in realtà, non si faceva in realtà, non si faceva in realtà. L'acustica fa benissimo perché c'è quel tanto di ritorno senza essere fastidioso e quindi l'orchestra era ben equilibrata, non abbiamo avuto problemi di dinamiche e non abbiamo avuto neanche tanti problemi di assieme perché anche se eravamo molto defilati sulla destra si riusciva a avere anche stato un buon contatto. Grazie. Grazie. Grazie.